ciao a tutti e bentornati sul mio canale siamo tornati qui con la carriera allenatore di fifa 22 prima di partire con con la prima partita volevo fare un recap del mercato che abbiamo visto nello scorso appuntamento un mercato che mi ha soddisfatto non ci sono stati incredibili colpi perché in attacco c'è stato una piccola rivoluzione perché ho venduto sia a raspadori che scamacca per un totale di 340 milioni preso alvarez 60 arnautovic non mi ricordo quanto l'ho preso una decina di milioni però può sembrare un acquisto inutile 79 però spero che possa far gol come l'anno scorso visto che ha vinto il titolo di capocannoniere poi se nella vita reale l'ha cercato lo united tanto fesso non è a destra confermato berardi che a quanto pare non mi hanno offerto i soldi della clausola quindi rimarrà almeno questo anno come sostituto politano penso che qui ci sia stato un upgrade anche perché come sostituto avevo quadrado e il asilias che era giovane quadrado che era molto diciamo vecchio ed era anche decresciuto quindi per me un upgrade poi politano mi piace anche su fifa a sinistra confermati bogà e sorrentino quest'anno spero sorrentino possa farsi vedere di più io lo inserirò un po' di più sulla tre quarti confermati tra ore e almada che dovranno esplodere in maniera definitiva a centrocampo i titolari saranno lopez enrique sostituti frattesi e i sostituti ufficiali frattesi io mi sento dire fred ma alternato con fernandez fred che poi potrà anche in determinate partite sostituire il tre quartista magari mettere una formazione di contenimento poi come terzino sinistro confermato david in coppia con rogerio centrali la coppia bremer ha che confermata bremer ha avuto mi sembra che abbia tagliato ma ha avuto anche offerte da reale barcellona ma io le ho rifiutate anche perché chiedevo 120 milioni volevo il massimo per un campione come lui lui è contento ora al massimo se mi chiederà proprio la cessione il prossimo anno se ci sarà un prossimo anno lo accontenterò come sostituti c'è muldur che ho ottenuto e preso questo giovanotto che per me ha delle grandi prospettive che è lukeba 20 anni 75 proprio buono a destra titolare lazari con molina come vice è sembrato un buon acquisto per la panca 25 anni 79 in porta sommer sostituto a riola e a me sarebbe piaciuto aggiunge magari o prendere un quinto di difesa proprio ma non ce n'è neanche bisogno proprio se arriva all'infortuno però avrei voluto un terzo attaccante magari non lo so giovane di esperienza da alternare con Arnautovic perché non so se mi regge il campionato Arnautovic però ovviamente la responsabilità dell'attacco è affidata ad Alvarez al 90% ah poi c'è anche Mertens vero vero me l'ero proprio scordato Mertens che comunque può fare più ruoli può fare anche lui il terzo attaccante questo c'è da dirlo perché magari inserire il falso 9 magari togliere il trequartista e mettere proprio Fred vedremo vedremo può fare anche l'ala sinistra adesso però senza perderci in ulteriori chiacchiere andiamo Milan Sassuolo Sassuolo dai Alvarez Traorei Enrique Lopez ah perdiamo subito palla Krunic uh il Milan ha preso David 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 no Megnan che salva tutto e finisce così 0 a 0 0 a 0 senza gol non mi è piaciuta molto questa prestazione da parte del Sassuolo eh non mi è piaciuta il migliore Sommer assolutamente Sommer veramente c'è 13 tiri in porta del Milan non è passato uno veramente grande Sommer sostituto di Andanovic a meno per questa partita preso nel migliore dei modi 0 a 0 che vale come 3 punti perché noi abbiamo fatto poche occasioni pochi tiri il Saint Germain Sassuolo formazioni cioè completamente di altra categoria farsi pensare che hanno loro davanti che noi potevamo prendere con quei 300 milioni potevo anche prendere Holland però vabbè poi sinceramente era in scadenza se me lo davano a 150 milioni lo prendevo era tipo una scommessa con me stesso però non volevo stravolgere un po' proprio tutto con Holland ma puntare su una giovane un giovane come è rigore ma perché giallo per Muldur non ci ha pensato su due volte da rivedere ah forse questo ha giudicato falloso se l'ha portato Bappé e lo segna Kilian 1 a 0 1 a 0 Paris sul dischetto Enrique tira ma è entrato il pallone è entrato è entrato in modo diciamo goffo carambolesco ma è entrato e frattesi l'autore del gol penso venga attribuito a frattesi il gol il pallone entra 1 a 1 papera di Donnarumma forse no no vabbè non proprio papera mezza diciamo così anche un po' sfortuna forse deviazione poteva però tuffarsi meglio su questo pallone abbiamo avuto un po' fortuna noi c'è da dirlo questo 1 a 1 ah autogol di Felipe quindi il colpevole principale è Felipe come è Bremer no ma perché c'è prima Messi e non il mio terzino e vabbè sulla ribattuta ma dai ma perché c'è Messi lì e non il mio terzino perché non è Messi il mio terzino perché c'era prima Messi là costante non c'era il terzino almeno in marcatura ha Messi no c'era prima Messi e poi il mio terzino qui bravo Areola che si supera ma poi ovviamente sulla ribattuta non ci può far nulla e Verratti qui deposite il 2 a 1 chi era a destra? Molina che è è scomparso Vinaldum ma il terzino è scomparso scusate da qua perché non c'è il terzino destro? e si chiudono qui primi 45 minuti di gioco Bremmer no errore qui di Bremmer ma il terzino proprio a stare più avanti di Messi non ce la fa eh e Bappé 3 a 1 era prevedibile era prevedibile questo risultato formazioni di di due livelli diversi però diamine perdiamo con onore ci sono due modi di perdere con disonore e con onore bogà niente non riesci a indire ad infiltrarsi diciamo così frattesi eh vabbè che è successo? perché ha fermato il gioco? c'era un fuori gioco? si 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 fuori gioco deviazione di ario la eh c'è il 4 a 1 basta basta per evitare cappotecnico per evitare altre reti se non le fanno nella simulata 4 a 2 abbiamo segnato noi con Almada troppo più forti di noi troppo più forti di noi troppo più forti di noi sono sincero all'inizio questa qui volevo giocarla lo stesso perché comunque ho perso quei 6 punti all'inizio quindi mi servono punti per recuperare però dato che dopo c'è la Juventus ehm la simula e gioco quella con la Juve per completare oggi ah questo è quello che pensavo fosse il Regen di come si chiama Dzeko e infatti mi sa si 1876 vado ad aggiungere anche lui questo al mercato come terzo attaccante 1 a 1 però con l'Empoli quindi niente del Sassuolo quest'anno qui rischio pure che mi esonerano Juventus Sassuolo si parte tra ore a chi ma chi è su Castello ah Castello Junior è quel Luqueba praticamente mi porto perché stavo dicendo e chi è questo? io non ho preso nessun Castello Junior eh fuori gioco fuori gioco di Berardi dovevo prendere il fallo tanto il giallo Delict se l'è preso Sommer ripigliati che questi sulla ribattuta lo sapevo guarda mi segnano sempre così sempre così devo subire i gol lì oh ma la difesa perché dorme? tra l'altro mi porta autogol di Sommer addirittura Alvarez Sorrentino è 2 a 0 pure ma dai ma che schifo stiamo facendo ma siamo ancora in vacanza ma quest'anno altro che campionato quest'anno vogliamo retrocedere Corriacheo ma sono lenti sono lenti è 3 a 0 dai niente da fare capo tecnico ma che ma che sassuolo di merda sto vedendo in queste partite 3 a 1 tra l'altro ma che sassuolo di merda sto vedendo andiamo a simulare questa con lo Spezia almeno una vittoria vai poi dal prossimo episodio si ricomincia col porto magari è questo che è andato male dai 2 a 1 ma che succede a questa squadra? 2 a 1 con lo Spezia simulando con lo Spezia diciannovesimo ma che schifo è? ma qui ma io pensavo vabbè ho stravolto solo l'attacco perché poi ho mantenuto vari giocatori cioè ho ceduto i panchinao con roba come quadrado Ilias in prestito ma qua cioè qua a gennaio si deve intervenire assolutamente e spendere tutti questi 314 milioni se no qua non arriviamo nemmeno in Europa lottiamo per la salvezza non va bene per oggi è tutto spero che sia un episodio così diciamo capitato ma c'è la classica giornata storta prima di chiudere però volevo ringraziarvi per aver raggiunto e superato i 300 iscritti perché attualmente sono a 311 quindi vi ringrazio di cuore siamo arrivati a quest'altro piccolo traguardo e come nei videogiochi se ne sblocca un altro ovvero arrivare a 400 quindi il nuovo obiettivo è arrivare a 400 iscritti e so che possiamo farcela ci dobbiamo riuscire se ce la possiamo fare lasciate un mi piace e attivate la campanella per non perdere i prossimi video bye bye